Seconda di servizio Passante Largo La gioia dei sostenitori La disperazione di Flavia Vediamo un po' Maledetto occhio di Falco che qui a Orlean non c'è Punto importantissimo Non ci vuole credere Flavia Match point Francia Ha ripreso colore Scudet Rimane a fondo campo Quasi in lacrime Laia Pennenta E adesso va Dalla Engsel A chiedere spiegazioni Sta lasciando andare a qualche commento di troppo Non è esattamente d'accordo con la decisione della Engsel Che adesso si rivolge al supervisor Credo Vediamo un po' Speriamo non ci siano decisioni drastiche da parte della Engsel Siamo sul match point Dunque un eventuale penalty point potrebbe Andiamo un po' Attenzione La regia non ci aiuta Solamente warning per la pennetta E meno male Ecco meglio che il regista non induce troppo sul replay Grazie 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 Grazie.